L'orchestra Da Vinci, che è composta da alunni di terza media, talenti in erba, diretti dal maestro Gerardina Reinone, con Michelina Carfora al flauto, Francesco Chiacchio alla chitarra e Maria Cristina Dabroska al piano. Dare coraggio ai ragazzi attraverso la musica, questo è il messaggio che la scuola vuole dare. Questi ragazzi, questo nostro futuro, perché le lezioni non siano solo lezioni di musica. I tre maestri dicono ai ragazzi, ma voi non dovete venire solo a pensare che state a scuola, perché è la scuola di vita, la musica, l'insegnamento dell'arte della musica, e anche alto valore formativo, capacità straordinaria di comprendere la purezza della emozione. Suoneranno adesso l'orchestra Da Vinci e poi un brano finale si aggricheranno due talenti in erba cantanti, e poi ve lo dico dopo. Intanto io chiamerei la insegnante, docente Giovanna Luiso, che è insegnante di musica della Da Vinci. Per noi docenti della Da Vinci, Lorenzini, soprattutto in questo delicato momento storico, la musica ha un ruolo fondamentale. Accorcia le distanze, abbatte i muri del pregiudizio, getta nuovi ponti e ci rende liberi di esprimere le nostre emozioni e di giungere a toccare i cuori di ogni uomo. La musica non è per noi solo un insegnamento didattico, ma è maestra di vita, perché contribuisce a superare le diversità culturali, le distanze geografiche e ha un valore fortemente inclusivo, aggregante e socializzante. Questa sera la musica si metterà al servizio della pace, promuovendo i valori della solidarietà, della cristianità e della fratellanza, cercando di infondere nei nostri cuori la speranza di un riscatto dalle sofferenze. Ragazzi, a voi! Ragazzi, a voi! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.